La mia dermatologa mi ha detto di voler fare un menage a droa e mi ha anche chiesto se conoscevo qualcuno. Stavo pensando a te. A me? Vorrei provare il suo uomo da sola. Sharon Stone, John Turturro, Woody Allen, Gigolo per caso. Buenas noches. Hola. Sei attraente. Hai un'aria da maschio. Non troppo bello. Grazie. Ti sei mai chiesto che succede nella testa di una donna? Non sarei qui se l'avessi fatto. Spiritoso. Sei spiritoso, mi piace così. Una donna ha bisogno di essere guardata. Se non succede, lei si spegne. Vediamo che cosa sai fare. Per il colore. Per il colore. Ero color. Ero color. Grazie a tutti.